Buonasera a tutti e benvenuti. La premessa è quella che in termini di manovra economica o manovrina o di ragionamenti fiscali, economici, di bilancio per noi italiani, per essere in pari con quelli che sono i precetti europei, per essere in ordine con quelle che possono essere le spese, le coperture, i bilanci, tante parole, tante cose complessissime, che poi potranno essere meglio spiegate. Alcuni punti, Cardine, si cercherà di valutare meglio quello che è l'evasione legato al pagamento del bollo auto, che sapete può scatenare anche una serie di problematiche, parlo degli incidenti stradali, delle mancate coperture, parlo delle assicurazioni e anche del mancato pagamento di una tassa. Bollo, ci sarà, non ci sarà. Iva agevolata sui prodotti dell'infanzia, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, quindi no all'iva agevolata su pannolini e tutto il resto. discorso voucher, certificati, libretto di famiglia, prestazioni, va bene, non va bene, rientrano dalla finestra quelli che sono usciti dalla porta, chi lo sa, manovre correttive, un problema di tassare meno i pensionati stranieri che vengono a vivere in Italia, insomma, tante cose particolari. Però parlo delle monetine. La monetina dà un centesimo e dà due centesimi. Monetine che personalmente io non spendo, ma nemmeno voi credo. Le riceviamo però sempre, nel senso che tutte le volte che andiamo in un negozio, in un bar, in un esercizio commerciale, ce le sbolognano, tra virgolette, a noi nel darci il resto. Facciamo poi fatica a noi a sbolognarle invece tra di noi privati, perché non ci capita, e comunque noi a restituirle a coloro che ce le hanno date, perché ci sentiamo quasi in imbarazzo nel pagare il caffè e allora prendere tutte le monetine da 5 centesimi, 2 centesimi per arrivare all'euro. Ci sembra di fare una brutta figura nel dare una manciata di monetine. Io personalmente raccolgo le monetine da un centesimo, perché, beh, così, a titolo di scaramanzia, magari le trovo per terra, le prendo, le metto nella borsa e me le tengo. In realtà, dal gennaio del 2018, finalmente posso dire io, ma possiamo dire anche tutti noi, e poi vi spiego il senso, perché erano anche simpatiche, insomma, le monetine non fanno niente di male a nessuno, però in realtà vi è una proposta per farle scomparire, quindi via la monetina da un centesimo, via la monetina da due centesimi, perché inutili. Inutili per quello che vi ho detto e ci sta, stiamo parlando di fatti della vita, il caffè, le monetine, le ricevo, le do, le giro, le volto, e le perdo, perché pare che sia stata di diversi miliardi dal momento della loro emissione il numero di queste monetine che sono state sparpagliate in tutta Europa, per un valore di circa 714 milioni di euro. Ribadisco, monetine che però hanno una percentuale altissima, quasi vicina anche al 100% il più delle volte, nello scomparire. Vengono emesse, vengono fatte girare, e non si trovano più. Un po' perché le perdiamo, non le usiamo, le mettiamo via, le teniamo lì, non le trovano e continuano a riproporle e a ricognarle e a rimetterle sul mercato. Il problema, e forse questo è il senso, è che vi è un risparmio da parte dello Stato, e io ci sto su questo, nel non cognare più la monetina da un centesimo e da due centesimi, risparmio di circa 20 milioni di euro, che potrebbero essere destinati anche a, si dice, un fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ma anche, secondo me, per iniziative diverse ed ulteriori che possono dare una mano in altri contesti a tutti noi. Questo perché le monetine che vengono coniate, diciamo, costano a chi le fa quattro volte di più di quello che è il loro valore nominale. È assurdo, se vogliamo pensarci. Cioè, nel senso che la produzione delle monetine, che piccoline valgono pochino, ha un costo per chi le produce che è quattro volte quello che è il valore delle monetine che vengono messe sul mercato. Quindi, mentre le mettiamo sul mercato, mentre non vengono utilizzate, mentre le perdiamo, mentre ce le sbolognano, mentre non si trovano, ci costano quattro volte di più. Motivo per cui, secondo me, è anche una buona cosa pensare di non trovarle più, insomma, di non farle e di non produrle più. Problematica, e chiudo, i prezzi, perché abbiamo tutti i prezzi con 17,59, 8,61, 7,43. Il 3, l'1, il 9, non ballano bene perché se non abbiamo la monetina da 1 o da 2 non possiamo. E allora, semplice, si dice arrotondiamo. Arrotondiamo come? In più, in meno, in eccesso o in difetto? Tutti noi speriamo in eccesso, non tutti noi, ho detto male, tanti dall'altra parte sperano in eccesso, noi speriamo in difetto. Problema anche questo che non è banale se moltiplicato per milioni di persone, problema che ha già suscitato anche l'allarme di alcune compagnie e associazioni di consumatori. Da ultimo, non dimentichiamoci che non possiamo interrompere noi la produzione se poi l'Europa va avanti a produrle, perché non le produciamo e ce le mandano ancora a casa e quindi il problema ovviamente non è così risolvibile. Vediamo dall'anno prossimo quella che sarà poi la scelta, mi auguro, condivisa dell'intera Unione Europea. Grazie.